Ciao ragazzi, volevo farvi vedere dei dati dove si può vedere la quantità di casi che ci sono nelle varie nazioni, incidenza del diabete di V1 nei giovani, in particolare tra i 0 e i 14 anni o tra i 15 e i 29 anni. In particolare vediamo che in cima, in questa particolare classifica di casi tra i 0 e i 14 anni c'è la Finlandia, poi Sardegna, Svezia e Norvegia. La Sardegna in effetti sembra fuori contesto perché gli altri tre sono paesi molto al nord e in comune la Finlandia, la Svezia e la Norvegia hanno il fatto che la propria popolazione è poco esposta al sole e quindi diciamo naturalmente carente di vitamina D. Si è provato, in tanti articoli che ho letto su internet, si è provato ad accostare la carenza di vitamina D alla possibilità aumentata di sviluppare malattie autoimmuni. In particolare il diabete di V1 è una malattia autoimmune e quindi ho sentito anche da più parti dire sì, se fosse vero questo, come mai la Sardegna, pur essendo un posto che si trova nel Mediterraneo, quindi con esposizione al sole completamente differente, dovrebbe trovarsi in cima a questa particolare classifica. In particolare vediamo proprio che la Sardegna qua sotto nella classifica 15-29 anni è proprio la prima in assoluto, addirittura davanti a qualsiasi altra nazione al mondo. E questo è vero, è vero che la Sardegna ha un'esposizione al sole più alta, però ho trovato anche un articolo, adesso vado a cercare, che vi dicevo che proviede da sassarisalute.it, chiaramente vi metto in descrizione il link per andarlo a leggere per intero, io andrei a leggere, a farmi leggere una parte da compiuta. Va bene, quindi c'è una cosa interessantissima, i sardi hanno, il 60% dei sardi hanno la carenza di questa vitamina B2, che invece nella popolazione mondiale è 10-15%, quindi 4-6 volte e più della popolazione mondiale la carenza dei sardi. E, andiamo a leggere qua. In Sardegna, dove c'è stata una delle più alte incidenze di mortalità per malaria, si sarebbero selezionati dei geni difettosi per la sintesi della vitamina D e per l'assorbimento della B2. E quindi potrebbe essere che nei paesi al nord c'è una carenza di vitamina D per motivi geografici, e invece parla in questo articolo che nei posti dove c'è stata per secoli la presenza della malaria si è creata una selezione genetica che ha portato magari a carenze di alcune vitamine o altro che porta all'aumento di malattie autoimmune. In particolare la Sardegna, essendo un'isola ed essendo stato uno dei posti dove c'è stata maggiore incidenza di questo, potrebbe essere una delle cause. Va bene, vi rimando all'articolo di sassadisalute.it dove ho trovato questo spezzolo di articolo molto interessante. Ciao mitici!